Musica 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 15 tronca, 16 passi, 17 passaggi, 18 salenti, panchina 3 mister, vino a portare. Dirige la gara, il signor Lunga, vittoria della sezione di tarso. Gli accettenti sono il signore Alberto Barile e Vincenzo Barcola della sezione di primo. Vincenzo Barile e Vincenzo Barile! Vincenzo Barile e Vincenzo Barile! Vincenzo Barile e 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 Vincenzo Barile Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!